Ciao a tutti ragazzi sono Candy e benvenuti in questo nuovissimo video nel mio canale In compagnia però dei miei amici Ciao Ciao Quest'oggi ragazzi giocheremo a Boom Beach Frontlines Che è un nuovo gioco per cellulare E vi consiglio immediatamente di pre-registrarvi Perché il gioco uscirà il 3 agosto Ma se vi pre-registrate adesso Otterrete il Beach Pass gratuito Se avete Android potete utilizzare il Play Store Se invece avete iOS cliccate il link qua sotto in descrizione E nei primi tre giorni avete il Beach Pass gratuito Ok ragazzi siete pronti? Sì Yes andiamo Iniziamo tra l'altro ragazzi io ci ho traiardato tantissimo Ho giocato un botto e demolisco Dico soltanto questo Non so voi ma io demolisco Perché pensi che perderemo? No 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 io curo e vi faccio vincere Ok Quindi se perdiamo non sarà coppa mia E' coppa tua che non ci hai curato abbastanza Ok Direi Come avrete già sicuramente capito è un gioco di strategia a squadre Saremo 9 contro 9 E chi riesce a ottenere entrambe le basi A e B Vince la partita essenzialmente Allora io scelgo il piromone perché è la mia classe preferita Sono una bestia col piromone Non so voi che cosa prenderete Io prendo un soldato Il dottore E acquisto anche lo scudo In questo modo Se state con me ragazzi attivo lo scudo E' finita Ok Andiamo in A Andiamo in A Andiamo in A Va bene Ok Perché di solito loro vanno subito in A in questa mappa Sapete cosa utilizziamo il ponte Cos'è una strategia andare subito in A Sì perché i nemici vanno sempre in A E noi andiamo sempre in B in questa mappa In realtà ci sono uno No dai non ci credo Poverito 90% Andiamo in B 90% delle volte è il contrario Dai andiamo No no ma ci fidiamo di te e delle tue strategie Ma ragazzi Non mi prendete in giro Guarda quanto scudo hai Allora preparatevi Tra non molto attimo lo scudo Siamo due contro 100 Preparatevi restate con me Vai Vedete nel cerchio Vedete nel cerchio Non possono far danno nel cerchio C'è pochissimo Guarda 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 Vai 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 Guarda 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 Massacrati raga Grande Steph Grande Steph Continua 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 Tancami tankami Forza forza inseguiamoli Guarda il bombarolo dove vai Ti vuoi buttare in mare Bene quindi abbiamo sia A E tra un po' abbiamo anche B Sparati più po' di B No arriva il tornado Il tornado raga attenzione Vieni vieni stai con me Non li facciamo entrare Non li facciamo entrare Ok Bravo 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 Che male che fa tornato Cerco di tertività Ok missili Attenzione agli attacchi Sì Aiuto aiuto Ti sto tenendo Ti sto tenendo Dai 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 Che clutch Ottimo Vai vai sciogliamolo Sciogliamolo Forza 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 Ok Raga Ve l'ho detto Ve l'ho detto che la mia tattica Era vincente Non mi credo Ma se stiamo andati in via All'inizio Che cosa dici Non credo che sia importante Dai Cioè questi sono piccoli dettaglietti Sai cos'è il problema Che stanno prendendo A Ci conviene Piazzare una distanza qui Iniziamo a mettere dalle trappole E si va via Andiamo 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 Vai 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 Io voglio fare il record di danni Voglio massacrare Oh oh E chi è questo C'è uno sniper Fatta attenzione allo sniper Dove? Eh l'ho ucciso L'ho ucciso Andiamo inà Andiamo inà No io non ci vado da là Non andiamo da quella parte Che ci massacra Andiamo dal ponte Che è meglio dai Attenzione è tornato Tra un po' arriva Ok Vai 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 Incendiamoli Ciao Ma dove volete andare Ma guarda quello col bazooka Poverino Grande ragazzi Grandissimi Ok Mi sa che Possiamo anche Fermarci Perché credo che Tranno molto vincere No non lo dire Sei buono Ma si ma ragazzi È palese A me si arriva un tornado E ci ammazza Guarda Sto arrivando veramente Oh mamma L'hai chiamato Stef Colpo tua se perdiamo eh Sei tu che hai gufato però Scegliamo lì Ok Forza forza È impossibile Abbiamo troppo vantaggio Allora B è ancora messa bene Per fortuna Sì 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 Vieni Stef Vieni con me Vado nella loro base E va a ammazzarle Arriva arriva Mi raccomando Avete bisogno Sì vieni Carly Vieni 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 Ok Vieni 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 10 secondi Voglio fare un botto di punti Non voglio morire Tranquilla Sono bassissimo Io voglio fare solo tanti punti Resisti Dai 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 Ti prego dimmi che ho vinto Cioè dimmi che ho fatto tanti punti Però ragazzi Tutti e tre nel podio eh Mi fa ridere che ho tipo 40 punti più Ti stai divertendo Kendall? Sì Allora io tra un po' sono addirittura a livello 35 Però devo vincere più partite perché voglio salire nella lega Voglio arrivare a Grandmaster ovviamente A Supremo Come potete ben vedere ragazzi si possono sbloccare tante altre isole E in alcuni isolotti ovviamente ci sono anche degli altri eroi Che ancora io non posso ottenere Perché serve per esempio per il guerriero il livello 37 Quindi bisognerà giocare ancora un bel po' Pronti ragazzi? Vai Yes andiamo Che dite mi prendo le cure ragazzi? Dici? Sei sicuro? No no non intendo dire il dottore C'è come abilità speciale cura Così mi autocuro Ah ok ok va bene Ah no non posso Mi sta licenziando No tranquillo mi sono preso i razzi Hai già preso il dottore Ho preso i razzi Ok ragazzi seguitemi Fidatevi di me questa volta Sono più in B questa volta Sì Andiamo subito in B Gli sparo un attacco aereo al centro E li ammazziamo tutti Pronti? Eh inizi leggero proprio Sì guarda 321 BAM Scappate 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 Adesso dobbiamo sopravvivere Guarda Guarda Vabbè Ah io devo restare qua almeno un po' Sì dai dai resta un pochettino lì E difendola No il tornado è proprio qui no Proprio davanti a noi Non ricaricare No 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 Vai 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 che li reggiamo Guarda Ce la possiamo fare Ricciogliamo Arrivò pure il tornado aiutarci Sto arrivando Sto arrivando Sto arrivando tutti Sì perché siamo i migliori Eccoli Sto tornando Arrivano 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 Sono tornati Preparatemi Ok Mi sto sciogliendo tutti Dai Oh ragazzi Secondo me ci arriviamo alla Lega Suprema Guarda questo che No ma quello che ti lancia le bombe è troppo Vado a comprare difese in B che stanno distruggendo adesso Io invece li sponchillo qua Così non possono passare e non possono difendere Vai carrile siamo insieme Fai solo attenzione a scrivere le bombe Oh cavolo Spostiamoci Dai ci muoio Che male che male che male Stefano Aiutami Eh io sto Sto ripetendo B Ok spendo un po' di soldi così compro le trappole Sì anch'io ho comprato quel cosino Basta Abbiamo vinto Sono tutti a B aiuto Abbiamo vinto Abbiamo vinto No forse distruggono in tempo No 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 Due Uno Ho pensato L'ultimo Grande Stavolta t'ho superato Eh infatti 3000 punti Ragazzi Siamo il dream team Siamo proprio i migliori del gioco C'è poco da fare Troppo forte Mi chiamo miglior curatore del mondo Puoi prendere Puoi prendere anche altro se vuoi Infatti Stef No no Allora io giusto per far vedere un po' anche gli altri personaggi Utilizzo il cecchino adesso Che è OP Fa tanto danno Però ovviamente spara più lentamente Rispetto al Al coso A lancia fiamme Esperto dove andiamo? In B? Ma si Andiamo in B Guarda guarda Stanno andando tutti in B Vedi le freccette? Sono tutti lì Io adesso li cecchino da lontano E gli faccio del male Guarda pronto? Bam 422 Bam 422 Sciolti Sciolti Solo che il cecchino ha pochissima vita Stef mi devi Ti sto tenendo Ti sto tenendo Ok ok Attenzione alle bombe E' uno che tira le bombe da lontano Eh sì E' super OP Va fatto fuori Mentre vi tengo È morto Cioè io Con il cecchino sciolgo Due colpi Conviene già andare in B In A B A B B C S Non esiste F Ultra HD Attenzione al tornado Carly Ho sbagliato tasto Io confido nelle cure di Stef Non fai sbagliare tasti Ce ne sono due Stef No Dovevo potenziare una cosa Ne ho comprato un'altra Ah ok Io cecchino Tutto bene Vai Tre colpi Mamma mia Tre colpi Ammazzo quello con Col mitragliatore Stiamo prendendo B Stiamo prendendo Guardate ragazzi Il cecchino quanto è OP Cioè toglie tantissimo Cos'è che ci hanno bloccato I robotini Sono i robotini I minion I minion Forza 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 Distrutti distrutti tranquilli Eh ma stiamo prendendo un botto No no Io ora mi campero qua Non li faccio più passare Guarda È regge troppo poco il cecchino Sì ha troppo poco capita Però guarda che danno Guarda che danno No Tieni tieni Sono morto È morto È la prima morte Adesso vado col jetpack Che è velocissimo Fa abbastanza Ricaricando Ricaricando Abbiamo vinto Abbiamo vinto Non mi ero neanche accorto Ok Va bene Va bene Siamo sempre i primi tre Sì siamo sempre i migliori noi Allora questa volta È giusto per farvi vedere Anche degli altri personaggi Li cambio Cambio un pochettino La mia squadra Quindi mi basta andare qua E vediamo Tolgo il piromane Perché è veramente OP E mettiamo il canne mozze E poi tolgo il jetpack Mettiamo il bazooka E direi basta Allora Che scelgo Scelgo il canne mozze Dai Arriva il dottore Sempre dottore Steph Io sono andato pesante Ok Grande Compro subito i missili Allora Cerchiamo di guardare Già immediatamente Le freccette dove vanno Vanno a B Sono più a B Sì 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 Vai 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 Quindi Abbiamo un bel team qua dietro Ok allora Pronti Vai Io mi preparo Gli lancio una bombardata qua Guardate Ti tengo Ti tengo Guarda i missili Guarda i missili Guarda i missili Sciolti 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 Addio Ciao Eh beh Andiamo subito a B allora Uno resta Io resto qua Vai Ok Arriva Sì uno resta a B Così conquistiamo È la fine raga Guarda Pidate un colpo di canne mozza 570 di danno Mamma io OP E ora ragazzi Che fate Ve ne andate via E che dovete fare Stanno arrivando tutti qua in via Ad attaccarci No Torniamo Gli ho fatto un colpo da 960 Ci siamo sciolti Però ci hanno buttato Aia 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 Curami Dottore Eh mi stavo allontanando anche da quella roba Tranquillo 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 Ci siamo Ci siamo Ok ti cura ti cura ti cura Vai spam curami per favore Aiuto ragazzi Aiuto aiuto Sono da sola Sono da sola Arriviamo arriviamo Carly Non ce la faccio Ti cura Arrivo 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 Qua abbiamo conquistato praticamente Vai ci conviene spostarci Sto cercando di resistere Ok Hai preso Ok Tranquilla Carly Dai che si vince Vittoria raga Curateli 5 secondi Morti 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 No Carly Sto ricaricando Ok Ho proprio uno spunto 2 1 Bam Vediamo i punti Vediamo i punti Stavolta secondo posto 2600 punti Non ho fatto nulla io 2600 punti Bene ragazzi Sono a tanto così dal livello 35 Mi raccomando Fatemi sapere se vi piacerebbe vedere Degli altri video Su Boom Beach Frontlines E soprattutto ricordatevi che uscirà il 3 agosto per tutti quanti Preregistratevi già adesso come vi ho detto nella intro Per ottenere il Beach Pass gratuito Dal vostro Candy è tutto E noi ci vediamo domani con un prossimo video Ciao 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 Ciao